Noi siamo l'Italia che di fronte alle morti del Covid con la scienza ha indicato una speranza a questo paese. Combattere serve. Abbiamo iscritto la storia quando nel 2019 in un altro Parlamento tutti ci davano per sconfitti. Abbiamo combattuto, abbiamo vinto le europee e quel Parlamento non è eletto male ben presidente, ma Davi Sassoni, un democratico che ha aiutato l'Europa a guardare il futuro a testa alta. Combattiamo per un Parlamento diverso dal vecchio Parlamento che è andato a casa. Quel Parlamento è il Parlamento del 2018, delle destre italiane, è il Parlamento del quale ogni volta che si poneva un tema sociale aveva fatto muro. Quel Parlamento delle destre è scattato in piedi, osceno, ad applaudire per aver affossato la legge Zan sui diritti delle persone. Questo è il Parlamento che è andato a casa. Combattiamo per cambiare i rapporti di forza perché ora, lo dico i democratici, è il tempo della giustizia sociale. Non vogliamo che la crisi la paghino sempre gli stessi.